In casa Yamaha abbiamo l'occasione di mettere a confronto due MotoGP molto lontane tra loro. Questa è la prima M1 del 2004 di Valentino, titolo mondiale sorpresa dalla Honda che passò sulla Yamaha. Non ebbe neanche il tempo di rifare tutta la moto come voleva lui, ma riuscì a vincere. Ecco, intanto Giulio, quali considerazioni fai su questa moto? Molto bello far notare nove anni di evoluzione tecnica e in cosa, in particolare dall'esterno, si vede che è evoluta la moto. Ecco, allora facciamo notare per prima cosa la posizione della frizione. Vediamo che se prendiamo come riferimento il perno del forcellone, che più o meno è nella stessa posizione, il pacco frizione su questa moto del 2004 è posizionato decisamente sotto. E quindi questo è un motore ancora, diciamo, un quattro cilindri in linea, ma con un layout abbastanza tradizionale. Di derivazione Yamaha R1 per i tempi UR7 Superbike. Invece per lo scarico, anche lì c'è da considerare qualcosa? Lo scarico è decisamente, appare decisamente più lungo e anche di diametro inferiore rispetto a quello che vedremo dopo. E questo è significativo perché il motore gira molto più in basso rispetto agli ultimi motori dell'anno scorso. E poi pneumatici, anche lì, eravamo su Michelin, abbiamo delle differenze molto evidenti. Esatto, queste sono moto dotate di gomme da trasporto, come le chiamano i gommisti, però si vede che sono gomme abbastanza diverse anche dall'esterno. Ed in particolare possiamo notare la spalla della gomma posteriore, ma soprattutto la spalla della gomma anteriore, che è molto più bassa di quella che vedremo sulla Bridgestone più tardi. Anche il serbatoio sulla M1 del 2004 è diverso da oggi? Sì, è cambiato in maniera radicale il layout della motocicletta, ma anche la distribuzione dei pesi. Lo si nota vedendo il serbatoio. Questo è un serbatoio abbastanza tradizionale, potrebbe essere su un quattro cilindri in linea stradale. arriva ancora ad avere la benzina fino alla parte anteriore, si vede che gli cifrati di benzina sono proprio nella parte anteriore, più o meno come lo erano sulle moto a due tempi. E si vede che arriva ad esserci benzina anche sotto la sella, ma una piccola parte, pochi litri. Ed ora ci siamo trasferiti verso una delle ultime M1. Ci sono gli stessi dettagli, gli stessi elementi, molto diversi. Partiamo dal pacco frizione. Sì, il pacco frizione lo si può vedere decisamente sopra al perno forcellone. Il perno forcellone, più o meno, ricordiamo, è nella stessa posizione di dove era nel 2004 come altezza del suolo. E quindi vuol dire un motore completamente diverso, motore controrotante, scopi irregolari, ecco, grossa evoluzione di Yamaha pur mantenendo il layout del quattro cilindri in linea. Poi vediamo lo scarico, si è decisamente accorciato in tutti questi anni, segno che il motore gira molto più in alto. E quindi sviluppa molta più potenza. Ed è cresciuto anche come diametro d'uscita della bocca di scarico. Quindi è uno scarico che è fatto apposta per un motore che eroga più potenza, deve girare più in alto e quindi deve avere meno contropressione, si dice allo scarico. E poi, diciamo, l'altra caratteristica assolutamente significativa è la posizione della benzina, che pian pianino nel corso dei nove anni di sviluppo è sempre più arretrata. Adesso si vede che la parte anteriore praticamente è tutta occupata dall'airbox, airbox che è cresciuto di volume perché così come per lo scarico, nel momento in cui il motore gira più in alto ha bisogno di avere molta più aria al lato aspirazione. La benzina è decisamente nella parte posteriore praticamente quasi tutta sotto la sella del pilota. Poi le gomme. Sì, le gomme si vede in particolare anche qui, anche se sono gomme da trasporto, la Bridgestone da 16,5 km davanti ha decisamente una spalla molto più alta. Ecco tutto, grazie Giulio, con te siamo saliti sulla macchina del tempo, anzi sulla moto del tempo, dal 2004 ai giorni nostri in casa Yamaha. Grazie Giulio e a questo punto andiamo dritti sparati verso i temi del Gran Premio. Il primo tema è Marquez, campione del mondo, il vicitore Lorenzo, ma il punto è che...